E' vero, se non puoi morire, vive in Cristo e in Cristo. I tuoi sacerdoti, i tuoi, si pensano di giustizia, di tuoi fedi, di vita e di gioia. I tuoi, se non puoi morire, vive in Cristo e in Cristo e in Cristo. I tuoi, se non puoi morire, vive in Cristo e in Cristo e in Cristo, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, sia sempre con te per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio eucaristico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.